Pochi pensano alla sicurezza di chi va a scuola. Si fanno proclami, si parla di controlli attenti alle strutture, agli edifici, ai luoghi frequentati dai nostri bambini e dai nostri ragazzi. Poi le scuole vengono giù dando i primi segni di stabilità con controsoffitti che precipitano senza che nessuno prima si sia mai accorto di nulla. Controlli, un'infinità di controlli, spesso inutili che ci fanno tornare alla mente la grande tragedia del Ponte Morandi. Tutti dicono di controllare, poi nessuno controlla chi ha controllato. Ma non solo gli edifici devono essere messi sotto attenta osservazione. Severità con chi ha contatto con i bambini dalle scuole materne alle medie. Controlli agli insegnanti se sono stabili psichicamente dopo i troppi atti di violenza perpretati su piccini inermi. Poi c'è il controllo degli autisti, di quelli che quotidianamente portano i bambini a scuola. Ma quali controlli vengono effettuati? Poco tempo fa l'autista pazzo che incendia lo scuolabus, poi pochi giorni fa l'autista ubriaco che si ribalta con tutta una scuolaresca. Allora, vogliamo continuare a sentire parlare di controlli? Sarebbe ora che delle parole si passasse ai fatti. Sarebbe ora che delle parole si faccio in un'ottima